Il partito è sicuramente un pareggio che ci sta, anche perché stasera tutti e due volevano vincere. Secondo me il pari sta bene a tutti e due. Può essere un'occasione persa con la Roma e con la rinforzamento? A noi ci preoccupa di arrivare in Champions, questo è l'obiettivo numero uno che abbiamo, anche perché nessuno ci pensava che arrivassi a questo momento. L'importante è che stiamo lì e l'importante è rassumare. Avete conteso troppo spazio? Troppo spazio, magari troppo rispetto al Milan stasera. Sicuramente dovevamo attaccarli di più, perché attaccandoli si fa male al Milan. Campassi indietro questo per la Roma? No, perché ho mandato la partita un punto di sistema.